Non insabbiare la misura delle zone economiche speciali è la richiesta avanzata al governo dal deputato del Partito Democratico, Piero De Luca. Lo strumento in questione, secondo De Luca, è fondamentale per sostenere la crescita e lo sviluppo del Paese, incentivando le imprese ad investire soprattutto nel mezzogiorno. Oggi ho un incontro fissato dal Presidente della provincia e faremo un po' il punto sulle problematiche che riguardano la nostra provincia e sulle difficoltà che il governo sta creando al nostro territorio. Io ho seguito negli ultimi giorni due delle vicende che maggiormente interessano gli imprenditori e i giovani per il lavoro di questa nostra provincia. La prima problematica è quella delle zone economiche speciali. Ho presentato un emendamento specifico al decreto semplificazione, ho discusso un ordine al giorno, ma il governo continua a essere cieco e silente e sta cercando nella sostanza di insabbiare l'attivazione e la partenza di questo strumento che noi riteniamo assolutamente fondamentale per il rilancio degli investimenti, dell'economia e quindi del lavoro e dell'occupazione nella nostra provincia. La seconda problematica è quella purtroppo annosa relativa all'aeroporto di Salerno. Voi sapete bene che avevo presentato un'interrogazione prima di Natale, sembrerebbe essere stata concessa una prologa per l'utilizzo di 40 milioni di euro stanziati da Renzi nello sblocca Italia nella precedente legislatura. Ancora oggi però purtroppo il Ministero dei Trasporti, d'intesa col Ministero dell'Economia, non ha adottato il decreto di gestione totale all'aeroporto, cioè non ha dato l'autorizzazione finale nella sostanza all'aeroporto per poter esercitare la propria attività. Questo comporta il rischio di perdere 257 milioni di euro che sono attualmente stanziati per l'allungamento della pista, per il completamento dei lavori e per la definizione e la procedura di fusione con la GESAC. L'obiettivo finale è quello di creare un'unica rete aeroportuale campana. Il Governo si sta dimostrando ancora una volta lontano dal nostro territorio e anzi nemico di questa provincia. Stiamo provando a fare di tutto per quel che riguarda il mio lavoro parlamentare in aula, col Presidente della provincia, continueremo politicamente a seguire queste vicende, sperando che alla fine riusciremo ad ottenere gli obiettivi. Sicuramente non consentiremo a questo Governo di abbandonare la nostra provincia e di abbandonare tanti giovani che attraverso questi strumenti, attraverso il rilancio dell'aeroporto, attraverso il rilancio degli investimenti, potranno trovare lavoro e occupazione, altro che presunte misure di assistenza di cittadinanza. Noi vogliamo garantire gli investimenti, lo sviluppo, la crescita e l'occupazione qui nella nostra provincia.